Federico Viola la tua presenza ad Acquemundi è la mia prima edizione di Acquemundi dopo la seconda edizione che è stata fatta la prima edizione che è stata fatta a Torino e sono un artista che è presente da pochi anni nel in questo mondo dell'arte ho avuto quest'anno grandi possibilità a livello anche di opportunità con delle collaborazioni che ho avuto con Cosimo Panini con l'Agenda Comics per l'edizione limitata del 2015 e ho avuto anche questa fortuna di incontrare Walter Vallini e collaborare con lui con questo progetto che è legato tutto al mondo dell'acqua e ho sviluppato e creato un progetto e un lavoro dedicato proprio a questo tema che è il centrato che è l'acqua per cui tutto quello che indirettamente e direttamente poteva essere collegato dal tema fantastico narrativo e tanti soggetti che comunque in qualche modo richiamano il tema dell'acqua. Con che tecnica hai realizzato? La tecnica è acrilico e vengono utilizzati pennarelli e semplicemente due tecniche comunque pennarello e acrilico.